Salve a tutti ragazzi, bentornati in Crusader Kings 2 Shattered Realms, siamo nel Ducato di Cremona ed eccoci qua nuovamente dopo il 2 gennaio dell'812, un Ducato che è abbastanza in crescita stiamo praticamente avendo il controllo delle parti più importanti, presumo in questo momento della, parca ma l'abbiamo già perso 7.40, Patti, King Einar, e tu invece Bresciano, Curti e Limousin non mi fai paura per niente, guarda, se Brescia deve cadere sotto le mie, sotto, tu devi rimanere mio vassallo, tu sei un mio vassallo, non dimenticartelo si, vai a fare, perché Gentile è diventato italiano? Beh, a me è sempre meglio che essere Lombardo, va Recruit Soldiers dobbiamo ottenere più Valeria, dobbiamo ottenere più truppe si, facciamo un po' più di denaro che serve per la nostra gloria in peritura oh, più tasse per me, perfetto, quelli che hanno, quelli a cui avevo dato i soldi per costruire una nuova, un nuovo edificio, cavolo, è andata bene, 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 nooo, ma basta basta, ma che cosa venite a rompere i coglioni qui? non siete ben voluti, andatevene fuori perdiamo uno di gold, ma insomma creiamo delle strade, quindi va tutto bene a parte il fatto che mi stanno saccheggiando l'indescrivibile, porca di quella miseria che gli venga un accidente secco però una cos'è? In guerra con Trento? Cremo non ha holdings, dovremmo crearli nooo, sono morto, perché sono morto? vabbè perché no Duco Pontino è morto all'età di 33 anni ed è morto per uno stadio terminale di Libra seppur invidioso e sempre stato ha sempre voluto che le altre ha sempre voluto quello che gli altri volevano avevano un uomo un uomo un uomo cattivo Pontino sicuramente pagherà per i suoi peccati nell'altra vita so be it allora abbiamo un problema ci dobbiamo sposare si mettiamo voi poi il mio important decision vediamo un attimo ma no, ma scusami abbiamo delle po- madonna santa non ha nessuna posizione Marshall mia moglie giusto no? no, mia madre e Basilio perché mi odiate? perché sono un pezzo di merda e ci avete pure ragione questo è bello Valentiniano Valentiniano il Designated Regent Tu sei il Court Physician Master of Hunt Heil Moaner voglio mettere uno di famiglia Valentiniano Cupbearer ehm Lionello mi sembra giusto così almeno evito che mi ammazzate nel sonno unmarried hair gain 25% perché tu sei meno 66% giustiliano ma che cosa cavolo sei diventato? Theology Focus Old Spree 50 to Jewish Money Lenders ma che cosa che hai combinato? mi vuoi spiegare che hai combinato? Cavalry Leader questo va molto bene come cosa siamo ritornati ancora con gli artefatti quante truppe abbiamo a disposizione? 449 322 possiamo cercare di fare una guerra la contessa di Agrigenton allora declare war forced fossilization e non posso così guarderci io scrivere io e che vi Poi possiamo anche extort tribute Ma non me ne frega niente Andiamo in guerra Non mi posso fidare di nessuno Questo è il bello Allora, Giustiniano va bene Poi Archbishop Andiamo in guerra Prendiamo il controllo di quello che è nostro Che è Brescia Che è debole E possiamo conquistarla La cosa che mi adesso interessa Oh, vedi che sono venuti countless E è venuta in guerra pure lei Abbiamo delle... Construction Castle infrastructure Lo voglio migliorare E... Seach equipment E heavy infantry E va bene anche ship building The flooded canary The flooded canary Ah, cose strane che succedono Oh, sono arrivate delle truppe in più Bene Chi è che è morto? Lo steward Ahia, penso che sia morta mia madre Eeeh, conte di Mantua Sì, ti metto con fare lo steward Buono il mio cospiratore Ah Ma che Kill Hilderick De Lodi Chi è Hilderick De Lodi? Vabbè, kabum Hilderick De Lodi Hilderick De Lodi Vabbè Non è esploso Come volevano Abbiamo conquistato Bergamo Andiamo a picchiare adesso Queste altre truppe Nooo Ma perché? Ma perché? Ma perché i figli miei Devono andare a fare Delle cose strane? Offer peace Enforce demand Benvenuti nel Ducato di Cremona Lì devo iniziare La moglie del Chief Sì, va bene Siete un po' lontanucci Però va bene Siete un po' lontani Più che altro Allora Assign Guardian Dove sono finiti i romani Di una volta E' Dio Dunque 210 Eh no però Mi sono rotto i coglioni di avere questa gente di merda Che viene a rompermi i coglioni nei miei territori Light infantry and archers Che non fanno mai schifo Per soprattutto abbiamo le quarries Il problema è che Non abbiamo Lut prodotto e furt level 20 Maximum loot Ah beh siamo protetti al massimo praticamente adesso Se qualcuno viene a rompere le scatole Finisce male Se nientati caritatevoli Perfetto Va bene tranquilla Troverai l'artefatto Non preoccuparti Sì ma cazzo Ma non è possibile Insomma avete rotto le scatole però Sottospecie di bestie Giustiniano Marco Arikis I upload is revealed Non abbiamo ottenuto soldi Military technology point Ok Frederick è stato catturato Perfetto One children lack focus No ragazza Assign guardian Tu non rimani nelle mani di quello lì Ma neanche Abbiamo ricacciato Il nemico Un po' tardi forse Ma ce l'abbiamo fatta Poteva andare peggio ragazzi Facciamo un bel castle wall Facciamo un bel Un bel ducato qua Fermo Immobile Come un semaforo Oh l'artefatto A quanto pare Sta andando A buon A suon battuto Vai a migliorarti Nell'intrigo Ragazzo With count Gentile Of pavia Bravi ragazzi Vi volete bene Provate un attimo A venirmi a rompere le scatole Vi faccio vedere Che cosa significa Farmi incazzare Sei un eretico Valdesiano Maledetto 1040 90 Porca miseria Ne hai di truppe Ragazzo Ne hai di truppe Vediamo un attimo Un attimo le truppe In Cremona E aumentiamole Perché Se vogliamo andarci a prendere La contea di Trento Avremo bisogno Di un bel po' più Di alcune truppe A plus plan Però Verona È un eroe popolare Gravity può essere Una cattiva Una cattiva persona E sono cose che possono succedere Anche lui ha 1050 truppe Stanno incominciando A tirar fuori Un numero spropositato Di truppe I nostri amici Che poi amici non sono Però facciamo finta Che lo siano Bafferob can marry Dai su Vieni Perché Form Alliance No? Political concern Consiglio Posizione Improved diplomatic relation Cioè io sono Con te Sono il ducato Più forte Che hai nei pressi Non ti vengo A rompere le scatole Quanto pare non crede Nelle mie parole I believe One of your vessels Can be discouraged No non faremo niente Per il momento Ma perché dobbiamo andare A rompere le scatole A rompere le scatole A questo povera gente Cassius E Agnese È subito incinta Questo è buono Questo è buono Sì Questo è buono 1100 uomini Beh Abbiamo abbastanza truppe Per andarlo a picchiare Vediamo cosa possiamo fare Gangster Friuli Eh No ma non voglio fare Extort tribute Establish tributary state E non posso Ah bene Truppe Muovetevi Ah Allora a parte quella Che si sta Ritirando Questa la mettiamo insieme Giustiniano Guaimar E Marco Grandiosi comandanti Di terre lontane Grandiosi comandanti di terre lontane Andando in guerra a risolver drammi Mi dispiace ragazzetto Mi dispiace ragazzetto Ma Verona Deve diventare Un tributo Un tributo Un tributo Messalina Fausta Offer space Che fazioni ci sono Che fazioni ci sono Increase power council Ah perché tu non sei un marshal Ah perché tu non sei un marshal Eh ragazzo mio Non so cosa farci Devi succare Cioè hai anche una stewardship di merda Posso dirtelo I will deal with this later Non posso far Non posso far Incazzare un'altra Unmarried hare Vediamo se hai ancora intenzione Di farmi guerra Ragazzetto Uh sono andato un po' oltre ragazzi Mi sono fatto prendere la mano Niente Ci prendiamo qui per questo episodio Ciao a tutti